Oggi si sta valutando il piano depositato dall'azienda che è un piano che deve tenere conto soprattutto della parte tecnica ambientale, quindi sicurezza all'interno dell'azienda per poter garantire ai lavoratori di muoversi in piena sicurezza e all'esterno. L'attenzione è massima sul cronoprogramma presentato oggi dalla Miteni per lo svuotamento dai serbatoi delle sostanze chimiche fino ad oggi prodotte. Operazioni che dovranno garantire la massima sicurezza dall'azienda già dichiarata fallita ma che sottostà alle direttive più severe al massimo grado di pericolosità. I vigili del fuoco sembra non rilasceranno il loro nulla osta se non sarà rigidamente assicurata e monitorata la cosiddetta barriera idraulica. Insieme ad altre prescrizioni si vuole garantire l'ulteriore contaminazione esterna agli impianti, non solo dalle sostanze fino ad oggi esaminate, ma viene richiesta una vera e propria catalogazione di tutte le sostanze prodotte, anche nelle fasi intermedie delle lavorazioni e dei cosiddetti rifiuti. La situazione è delicatissima e richiede un'attenzione continua. Giovedì ci sarà l'incontro con il prefetto alla presenza di tutti gli organi tecnici della regione, i vigili del fuoco e anche l'unità di crisi del mio assessorato perché dobbiamo guardare alla parte di tutela dei lavoratori anche rispetto agli ammortizzatori sociali.